Sette giorni all'arrivo del Giro d'Italia in Irpinia e già si registrano i primi disagi organizzativi. L'evento mondiale è iniziato a Gerusalemme che ha visto come primo triunfatore Tom Dumoulin sta per approdare a Mercogliano. Nonostante questo, il clima non è proprio dei migliori e a contribuire a ciò la questione legata al pagamento della funicolare che porterà corridori, giornalisti e spettatori a Montevergine. Tutti dovranno pagare la tratta, questo è quanto contenuto nella nota indirizzata all'organizzazione del Giro d'Italia e stilata dal direttore generale dell'Air Desio circa l'utilizzo della funicolare che funzionerà dalle 8.30 alle 14 per tutti a fronte del pagamento di ben 8 euro per il biglietto di andata e di ritorno. Dopo le 14 il servizio sarà interrotto fino alle 18 e da quell'ora fino alle 19.30 la funicolare sarà disponibile solo per il personale dell'organizzazione e per i corridori. L'arrivo della corsa al traguardo di Montevergine è previsto intorno alle 17 ma quanti avranno necessità di tornare alla base dovranno farlo dalle 18 in poi. Disagi in vista per i tanti giornalisti al seguito per il raggiungimento della sala stampa situata a 14 chilometri dall'avvio ovvero presso la scuola Guido d'Orso di Mercogliano. A conclusione le strade utilizzate per il passaggio del Giro d'Italia saranno chiuse a partire da venerdì sera e per chi avrà l'esigenza di salire dovrà far uso delle navette. Un'organizzazione che lascia molto a desiderare e che soprattutto presagisce nulla di buono ma solo tanto, tanto caos.